Ciao a tutti, eccomi con un breve video acquisti, diciamo acquisti, però vabbè, aste e cose varie Allora partiamo subito, ho fatto fare i biglietti da visita, da vista print e su internet E ho speso circa 26 euro, mi pare qualcosa, e li ho fatti normalissimi bianchi, ne ho fatti 250 Sono venuti, adesso ve ne faccio vedere uno, sono così, mi cade tutta la scatola, perfetto Sono così, con questo fiore in viola, viola e bianco, con i miei contatti di Misobi e di Facebook, quello che faccio, la mail, il nome E dietro sono così semplici, niente di più, niente di complicato Poi ho preso la scatolina, porta bigliettini, così quando uno va in giro, cose varie, per non tenerli sparsi Chissà dove che poi si rovinano, una scatolina normale di metallo, così, molto carina E ti arrivano in questa scatola Quindi il sito stra 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 consigliato Anche perché praticamente è facilissimo farlo, ti danno tutto loro, tutte le foto Oppure se vuoi caricare una foto tua, quello che ti pare Poi da una libreria online, Rezzoli, ho ordinato questo libro Che giustamente non vedete Potete dire così Tegole con miniature in fimo Voi non lo vedrete mai Però aspettate che sposto Peggio che peggio Vabbè comunque è questo Così Tegole con miniature in fimo Ha 30 pagine e 5,50 euro neanche in esagerazione Notare sullo sfondo tutte le mie cosine Poi in questo bellissimo sacchettone Un po' di materiale Vi risposto l'inquadratura perché è meglio Ok Dunque Dieci Di questi Cameo cabochon con la donna Che Non so ancora far incastonare Non so neanche se mi ci mi trovo mai Ma probabilmente volevo provare a farli con Gli stampini in silicone per il fimo Sono così Dieci Poi Trecento perline nere sfaccettate in acrilico Che Non so se vedete Così Sono piccoline Non sono molto grandi Però sono così Poi 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 Cinque basi Per Cameo Col buco Da metterci l'immagine in bronzo Così Cameo Cabochon Quello che uno vuole Poi Pensavo che fossero più Grandi Ma va bene lo stesso Li userò da orecchino E sono 20 basi Così Piccoline in bronzo Dietro sono lisce Davanti Ci sono queste Questi lavoretti Poi Penultima Pacchetto Se riesco a aprirlo Sono Mamma mia Ok Due ciondoli in bronzo Così A forma Ho perso quell'altro Così A forma di cuore Un po' Tutti lavorati Sempre in bronzo Uno Dov'è il suo Ho perso il suo amico Ok E due Così Credo che Si aprano Ma sinceramente Non vorrei dire una cavolata Sì invece Si aprono C'è davanti La sua Chiusurina Questo è quello aperto Il cuore Questo è quello chiuso Che c'è la sua chiusura Qui davanti E poi Come ultima cosa Come ultima cosa 30 Charm In bronzo Sempre Così Con i due cigni Così Molto belli anche questi Molto carini Per il momento Non ci sono altri Altri acquisti E Penso come sempre Che arriverà Qualcosa Settimana prossima Anche perché ho ordinato Altri tre libri Però Sono stranieri Sempre sulla Sul fimo Sulle cane Che voglio provare a fare Delle cane E Arriverà sicuramente Anche altre Altro materiale Dall'asta Per il momento È tutto Sì è tutto Non c'è altro Vi saluto Ciao a tutti